vangelo secondo luca capitolo 1 leggiamo dal versetto 57 versetto 66 vangelo secondo luca capitolo 1 dal versetto 57 al versetto 66 compiuto si per lei il tempo del parto elisabetta diede alla luce un figlio i suoi vicini e i parenti udirono che il signore le aveva usato grande misericordia e se ne rallegravano con lei l'ottavo giorno vennero a circoncidere bambino e lo chiamavano zaccaria dal nome di suo padre allora sua madre intervene disse no sarà invece chiamato giovanni ed essi le dissero non c'è nessuno nella tua parentela che porti questo nome e con cenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato egli chiesta una tavoletta scrisse così il suo nome e giovanni e tutti si meravigliarono in quell'istante la sua bocca fu aperta la sua lingua sciolta ed egli parlava benedicendo dio e tutti i loro vicini furono presi da timore e tutte queste cose si divulgavano per tutta la regione montuosa della giudea tutti quelli che le udirono le serbarono nel loro cuore e dicevano che sarà mai questo bambino perché la mano del signore era con lui questo brano che abbiamo letto forse molte volte come credenti ma letto spesso senza considerare la profondità di questo brano senza considerare l'intento di luca nel scrivere questo brano e nel scrivere questo libro ritornando ai primi quattro versetti di questo vangelo vorrei che ramentassimo quello che è lo scopo di questo vangelo in questo modo possiamo leggere studiare questi versetti questa mattina considerando quanto è importante anche per noi leggere questo racconto storico che riguarda la nascita di giovanni luca scrive al capitolo 1 versetto 1 dice poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola e parso bene anche a me dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine di scrivertene per ordine illustrate o filo perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate attraverso questo vangelo noi abbiamo la certezza riguardo alla nostra fede in cristo non perdiamo di vista all'intento di luca nel scrivere questo vangelo scrivere a teofilo questo gentile non giudeo probabilmente ne ho convertito per incoraggiare nella sua fede questo è lo scopo di luca il quale nei primi due capitoli parla nei dettagli della nascita di giovanni battista e di gesù pensate due capitoli dedicati alla nascita di giovanni e di gesù presentando dettagli storici abbiamo iniziato infatti con questo primo brano dal capitolo versetto 5 al versetto 25 del capitolo 1 l'annuncio della nascita di giovanni qui presenta diverse cose ma voglio assumere questo paragrafo già studiato considerando quattro cose prima l'annuncio del concepimento miracoloso di giovanni questa donna sterile in età avanzata che concepisce luca ritiene importante per teofilo essere a conoscenza di questo fatto non solo la chiamata divina di giovanni scelto fida bambino era sarà pieno dice di spito santo fin dal grembo di sua madre perché sapere questo qual è l'intento sapere che giovanni aveva lo spito santo fin dal principio chiamato a preparare la via del messia dice convertirà molti dei figli di israel al signore loro dio andrà davanti a lui il messia con lo spito la potenza di elia per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli e la saggezza dei giusti per preparare al signore un popolo ben disposto ecco la chiamata di questo bambino poi la mancanza di fiducia di zaccaria e questa promessa dell'angelo gabriele le conseguenze mutuo la motivo della sua mancanza di fiducia beh questo dettaglio importante alla luce di quello che vedremo questa mattina e poi la lode di elisabetta elisabetta che loda dio versetto 25 ecco quanto ha fatto per me il signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini in altre parole luca vuole mettere in evidenza che c'è dio l'opera e dio che elimina questa vergogna questo concepimento miracoloso e grazie all'opera di dio ed elisabetta loda dio centro c'è il signore ora bravo che abbiamo letto questa mattina dal 57 alla 66 e la continuazione di questo racconto l'annuncio del concepimento e qui parleremo della nascita di giovanni la nascita di giovanni dopo aver presentato abbiamo visto l'annuncio della nascita di gesù e questo incontro tra maria elisabetta luca ora prosegue parla della nascita di giovanni un racconto importante ribadisco considerando lo scopo di questo libro incoraggiare teofilo affinché potesse avere la certezza delle cose che aveva udito riguardo messia era importante questo paragrafo era importante evidenziare l'adempimento della promessa fatta da dio per mezzo di gabriere dall'angelo iniziamo con i primi due versetti di questo paragrafo dove parleremo dell'adempimento l'adempimento della promessa l'adempimento della promessa nei primi due versetti luca scrive così letteralmente ora si adempì per elisabetta il tempo di partorire e generò un figlio ora si adempì per elisabetta il tempo di partorire con lei che era sterile in età avanzata come sappiamo partori come promesso dall'angelo gabriele al versetto 13 di questo capitolo l'angelo gli disse a zaccaria non temere perché la tua preghiera è stata esaudita tua moglie elisabetta ti partorirà un figlio gli porrai nome gesù giovanni gli porrai nome giovanni tua moglie elisabetta ti partorirà un figlio ed ecco qui l'adempimento di questa promessa era incoraggiante per teofilo sapere che c'era stata una promessa dettagliata e ora un addempimento di quella promessa di quella profezia versetto 58 prosegue luca dicendo che i suoi vicini vicini di elisabetta i parenti udirono che il signore letteralmente che il signore stava magnificando la sua misericordia verso di lei e gioivano con lei mediante questo versetto sappiamo che i vicini e i parenti non erano a conoscenza della gravidanza di elisabetta tranne maria perché vengono avvengono a conoscenza di ciò nel momento in cui partorisce lei che era sterile in età avanzata che aveva vissuto una vita nella vergogna versetto 25 ecco quanto ha fatto per me il signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna e me dagli uomini pensate a questa donna che ha vissuto per un'intera vita nella vergogna considerata una peccatrice maledetta da dio perché senza figli ora i vicini e i parenti vengono a conoscenza del fatto che partorisce e osservate come descrivono questo evento il signore stava magnificando la sua misericordia verso elisabetta usano lo stesso termine che troviamo il versetto 46 l'anima mia magnifica il signore termine che significa allargare ingrandire in relazione alla sua misericordia questo è quello che stavano dicendo i vicini e i parenti il signore stava manifestando la sua grande misericordia verso elisabetta i vicini e i parenti comprendono che il signore yahweh stava operando in lei nella sua grande misericordia questo è quello che stava accadendo teofilo deve essere a conoscenza del fatto che dio stava operando potentemente nella sua grande misericordia questo è quello che dicono i vicini e i parenti al centro di questa loro reazione c'è proprio il signore abbiamo già visto che elisabetta loda a dio quando concepisce rimane incinta e qui ora i vicini e parenti che vengono a conoscenza di questo bambino partorito dicono il signore sta manifestando la sua grande misericordia tra l'altro la misericordia di dio del signore è un tema costante in questo capitolo perché se andiamo al versetto 50 al cantico di maria osservate quello che dice maria dopo aver detto grandi cose mi ha fatto il potente santo il suo nome e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono anche qui la misericordia di dio si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono su coloro che ripongono fiducia in dio versetto 54 la stessa cosa quando dice a soccorso dio a soccorso israele suo servitore ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri verso abramo e verso la sua discendenza per sempre anche qui parla di misericordia in relazione che cosa al patto stipulato con abramo la sua misericordia del signore in relazione alle promesse fatte ai padri versetto anche qui 72 qui il cantico di zaccaria al padre di giovanni dopo aver detto versetto 69 ci ha suscitato un potente salvatore ovvero gesù nella casa di davide il suo servo come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto del giuramento che fece ad abramo nostro padre ancora una volta la misericordia di dio in relazione qui al patto che dio fece con abramo dio è misericordioso e agisce secondo le sue promesse chi c'è al centro qui fratelli e sorelle dio 78 uno dice dal 77 per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei peccati grazie ai sentimenti di misericordia del nostro dio per il quale l'aurora dall'alto ci visiterà ancora una volta la misericordia di dio qui in relazione a salvezza al perdono dei peccati i vicini di elisabetta e i parenti dopo aver saputo di questo parto descrivono questo avvento in questo modo il signore sta manifestando la sua grande misericordia oltretutto il nome giovanni significa yahweh e misericordioso yahweh ha favorito ha graziato i parenti e vicini reagiscono in questo modo riconoscendo la grande misericordia di dio e non solo dice luca e se ne rallegravano con lei gioivano con lei proprio come disse l'angelo a gabriere versetto 14 di questo capitolo tu l'angelo disse a zaccaria ne avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita se avvera esattamente quello che disse l'angelo gioiscono con lei perché è nato questo bambino non solo l'adempimento di questa promessa fatta a zaccaria che riguarda la nascita ma qui anche si addempie quello che disse riguarda la gioia la gioia dei vicini e dei parenti gioiscono insieme a elisabetta questo è un dettaglio importante per teofilo come ho detto per la sua fede perché qui luca racconta che si addempie esattamente quello che aveva promesso gabriere in altre parole sta accadendo qualcosa di straordinario non di ordinario non di comune lo vedremo nei prossimi versetti anche passiamo ora al versetto 59 fino al versetto 63 in questa seconda parte la scelta del nome luca si sofferma su questo aspetto alla scelta del nome di questo bambino dal 59 al 63 luca scrive l'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino lo chiamavano zaccaria dal nome di suo padre l'ottavo giorno dopo la nascita di questo bambino viene circonciso la circoncisione era segno del patto come sappiamo dall'antico testamento in genesi in genesi capitolo 17 versetto 9 poi dio disse ad abramo quanto a te tu osserverai il mio patto tu e la tua discendenza dopo di te di generazione in generazione questo è il mio patto che voi osserverete patto fra me e voi e la tua discendenza dopo di te ogni maschio maschio tra di voi sia circonciso sarete circoncisi questo sarà un segno del patto fra me e voi all'età di otto giorni ogni maschio sarà circonciso tra di voi di generazione in generazione tanto quello nato in casa quanto quello comprato con denaro da qualunque straniero e che non sia della tua discendenza ecco la circoncisione segno del patto tra dio e abramo il popolo di israele l'ottavo giorno anche levitico 12 versetto 3 si parla di ciò i vicini e i parenti di elisabetta e di zaccaria partecipano a questo evento della circoncisione e qui leggiamo che lo chiamavano volevano chiamarlo zaccaria zaccaria dal nome di suo padre i parenti e gli amici che vogliono dare questo nome al bambino proprio per onorare il padre zaccaria la pratica comune era quella di chiamare i primogeniti maschi con il nome del nonno oppure del padre come in questo caso meno comune volevano dare questo nome al bambino proprio per onorare il padre zaccaria ora dare il nome all'ottavo giorno quando il bambino veniva circonciso non era una pratica preschitta nell'antico testamento era una nuova pratica dal primo secolo dopo cristo questo è quello che infatti vediamo in questo contesto i vicini e i parenti quindi vogliono dare questo nome al bambino zaccaria come pare per onorare la loro intenzione era buona ma qualcosa accade versetto 60 qualcosa accade letteralmente leggiamo questo ma sua madre rispondendo disse niente ha fatto sapete nel testo greco c'è una forte negazione niente ha fatto assolutamente no in modo categorico reagisce poi dice ma ma anche qui questo è un termine forte nel testo greco questa congiunzione versativa molto forte ma sarà chiamato Giovanni Elisabetta si oppone rispondendo niente ha fatto sarà chiamato Giovanni questo è quello che fa Elisabetta Luca non specifica in che modo Elisabetta giunse a conoscenze di quello che doveva essere il nome del bambino ma sappiamo probabilmente il padre Zaccaria che comunicò ciò alla moglie Elisabetta risponde proprio come aveva detto l'angelo a Gabriele dicendo che il suo nome sarà Giovanni come reagiscono le persone versetto 61 ed essi le dissero non c'è nessuno nella tua parentela che porti questo nome non c'è nessuno che porti questo nome erano stupiti perché non c'era nessuno dei parenti che si chiamava Giovanni quello che Elisabetta stava facendo era contrario al costume dei giudei si stava opponendo a quella pratica era anomalo per i parenti era anomalo per i vicini questa sua risposta infatti a un certo punto si rivolgono al padre Zaccaria versetto 62 vediamo questo in un certo senso mettono da parte la madre vanno dal padre e con cenni facendo segni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato qui capiamo che non solo era muto ma anche sordo perché cercano di comunicare con lui con cenni facendo segni per chiedergli come voleva chiamare il suo figlio e questa è la risposta da parte di Zaccaria il quale era ancora sotto il giudizio di Dio per ben nove mesi nove mesi per la sua mancanza di fiducia e questo è il modo in cui risponde 63 egli chiesta una tavoletta scrisse così probabilmente usò questa tavoletta in quei nove mesi per comunicare e scrisse così dal testo greco letteralmente Giovanni è il suo nome grande enfri Giovanni è il suo nome anche lui si oppone ai vicini ai parenti agisce non secondo la pratica comune dei giudei risponde come aveva risposto Elisabetta in modo conforme a quello che disse l'angelo d'altronde l'angelo disse questo a Zaccaria e gli porrai nome Giovanni ecco come risponde Zaccaria Giovanni è il suo nome tutti si meravigliarono tutti si meravigliarono stupiti per questa sua risposta anche lui risponde in modo contrario a quello che era la pratica dei giudei non c'era nessuno che si chiamava Giovanni ma lui risponde dicendo Giovanni è il suo nome anche qui non solo all'adempimento della nascita di questo bambino ma anche riguardo al nome perché dovevano chiamarlo Giovanni e così fanno chiamano questo bambino Giovanni questo era il suo nome fin dal principio passiamo ora al versetto 64 la terza parte di questo paragrafo la guarigione miracolosa di Zaccaria la guarigione miracolosa di Zaccaria ascoltate quello che dice Luca dopo che Zaccaria scrisse il suo nome Giovanni e tutti si meravigliarono in quell'istante ovvero immediatamente e immediatamente la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta e parlava benedicendo Dio Zaccaria muto e sorto per ben nove mesi sotto il giudizio di Dio per la sua mancanza di fiducia nella promessa da parte dell'angelo Gabriele e ora dopo aver scritto su quella tavoletta Giovanni è il suo nome immediatamente istantaneamente fu aperta la sua bocca sciolta la sua lingua e incominciò a parlare proprio come aveva predetto l'angelo capitolo 1 versetto 20 qui vediamo l'opera miracolosa di Dio che interviene e Zaccaria immediatamente è in grado di parlare e non solo è in grado di parlare ma osservate cosa dice quando parla benedice Dio dopo nove mesi di silenzio forzato Dio gli apre la bocca e qui benedice Dio è evidente che questo è quello che c'era nel suo cuore in tutto quel tempo Zaccaria loda Dio e conosciamo il contenuto della sua lode perché nei prossimi versetti dal versetto 68 fino al versetto 79 c'è questo cantico di Zaccaria questo cantico di Zaccaria ecco in che modo lodò Dio questo è quello che c'era nel cuore di Zaccaria in tutto quel tempo di silenzio questo è il modo in cui reagisce lui lodando Dio abbiamo visto Elisabetta loda Dio dopo che concepisce versetto 25 Maria loda Dio in relazione al suo concepimento e qui Zaccaria che loda Dio chi c'è al centro in questo capitolo? Dio Dio al centro perché? perché lo scopo di questo libro è incoraggiare Teofilo nella sua fede in Cristo come vera certezza riguarda la fede quando comprende che dietro questi eventi storici c'è Dio e uomini e donne lodano Dio e parleremo di questo cantico ricco di verità spirituali come il cantico d'altronde di Maria ecco l'atteggiamento di Zaccaria loda Dio ma qual è la reazione della gente? questa è l'ultima parte di questo paragrafo da 65 al 66 la reazione della gente la reazione della gente 65 letteralmente è il timore venne su tutti coloro che vivevano vicino a loro e il timore venne su tutti coloro che vivevano vicino a loro timore ecco la reazione timore davanti a ciò che avevano visto davanti a questa guarigione istantanea davanti a questa nascita miracolosa ecco timore in che senso timore riconobbero l'intervento divino era innegabile che Dio stava operando potentemente non c'era altra reazione timore in riverenza la consapevolezza dell'intervento divino e si divulgarono dice Luca quelle cose per tutta la regione montuosa della Giudea dove vivevano Zaccaria e Elisabetta tutte queste cose si divulgarono questa notizia riguarda questa nascita miracolosa Elisabetta che era sterile in età avanzata e questa guarigione miracolosa di Zaccaria dopo nove mesi di silenzio e osservate quella è la reazione di coloro che ascoltano ciò 66 tutti quelli che le udirono le serbarono nel loro cuore e dicevano che sarà allora questo bambino perché la mano del Signore era con lui ecco come reagiscono non solo timore consapevoli dell'intervento di Dio della sua opera ma qui reagiscono con stupore era innegabile per loro che la mano del Signore era con questo bambino quando parla della mano del Signore cosa si rifiisce se andiamo per un attimo in Esodo capitolo 9 Esodo 9 versetto 3 in questo contesto giudizio di Dio sul paese d'Egitto sul popolo d'Egitto sui loro animali Esodo 9 leggiamo dal versetto 1 allora il Signore disse a Mosè va dal farone e digli così dice il Signore il Dio degli ebrei lascia andare il mio popolo perché mi serva se tu rifiuti di lasciarlo andare lo trattini ancora la mano del Signore sarà sul tuo bestiame che è nei campi sui cavalli sugli asini sui cammelli sui buoi sulle pecore ci sarà una tremenda mortalità qua dice la mano del Signore sarà sul tuo bestiame in questo contesto il riferimento è il giudizio di Dio che manifesta la sua potenza la mortalità del bestiame oppure in Deuteronomio capitolo 2 Deuteronomio capitolo 2 versetto 15 infatti la mano del Signore fu contro di loro per sterminarli dall'accampamento finché furono scomparsi del tutto chi si rifiisce qui ai popoli di Israele in quei 38 anni nel deserto sterminati la mano del Signore che storicamente si manifesta come con lo sterminio di un'intera generazione scomparsi del tutto finché furono scomparsi del tutto Giosuè capitolo 4 Giosuè capitolo 4 versetto 23 e 24 infatti il Signore il vostro Dio ha prosciugato le acque del Giordano davanti a voi finché foste passati come il Signore il vostro Dio fece al Mar Rosso che egli prosciugò finché fossimo passati perché tutti i popoli della terra riconoscano che la mano del Signore è potente e voi temiate in ogni tempo il Signore vostro Dio Dio che manifesta la sua potenza e l'intento è questo affinché i popoli della terra riconoscano che la sua mano è potente affinché riconoscano che il Signore Yahweh è potente l'unico Dio sapete Yahweh non è come il Dio di molti uomini e popoli falso Dio che molti adorano è un Dio reale che si è manifestato storicamente con eventi reali innegabili chi ha mai aperto il mare e ha permesso di passare mezzo al mare sulla terra asciutta per poi chiuderlo per giudicare l'esercito degli egiziani oppure ha aperto il Giordano questo è il Dio della Bibbia il Signore e così in questo contesto in Luca capitolo 1 da gente che sente parlare di questi eventi straordinari della nascita di Giovanni questa nascita miracolosa e di questa guarigione miracolosa di Zaccaria reagiscono come che sarai mai questo bambino era innegabile che la mano del Signore era con Lui stava operando potentemente in Lui non era un bambino come gli altri e si chiedevano quindi che cosa avrebbe fatto quel bambino fratelli questo è l'intento di questo paragrafo è mostrare chi è quel bambino chi è quel bambino in cui Dio sta operando l'enfasi è sull'identità di questo bambino era importante per Teofilo comprendere quello che c'era dietro la nascita di questo bambino Dio stava operando potentemente a Lui e ai Suoi genitori questo è quello che questo brano evidenzia in modo chiaro e innegabile però questo brano importante che abbiamo considerato questa mattina legato a a quello precedente capitolo 1 sempre dal versetto 5 al versetto 25 vi ho parlato di questi quattro aspetti l'adempimento della promessa un brano che rivela che quella promessa si adempia esattamente come disse l'angelo ora non capita tutti i giorni questo era importante storicamente evidenziare ciò che stava accadendo per Teofilo per la sua fede non solo la scelta del nome chiamato come esattamente come disse l'angelo Giovanni era lui era quel figlio promesso a Zaccaria a Elisabetta e tutto ciò in contrasto con quello che era il costume dei giudei non solo la guarigione miracolosa di quest'uomo a Zaccaria come promesso dall'angelo muto e sorto per nove mesi e ora parla istantaneamente abbiamo letto questo tante volte però non è normale non è normale parlare istantaneamente così non è normale dopo nove mesi di silenzio parla e loda Dio e poi la reazione della gente che ha timore e che ha questo stupore emotivo di quello che stava accadendo questo racconto mette in risalto l'opera di Dio dall'inizio alla fine mette in risalto l'opera di Dio questo è quello che incoraggiava Teofilo e questo è quello che deve incoraggiare noi fratelli e strumenti sorelle prima cosa Dio manifesta la sua grande misericordia è Dio che sta agendo nella sua misericordia ecco questa nascita di Giovanni strettamente legato a questa misericordia di Dio lui che ha magnificato la sua misericordia verso Elisabetta non solo la lode di Zaccaria lui che parla e benedice Dio loda Dio l'enfasi è su Dio in quegli eventi non solo terzo aspetto l'opera miracolosa di Dio da 64 a 65 a tal punto che c'era timore e che c'era stupore guarito istantaneamente e poi quarto aspetto la mano del Signore con Giovanni con Giovanni ovvero la sua presenza la sua potenza tutto quello che stava accadendo storicamente stava manifestando l'intervento divino stava manifestando quello che era l'adempimento del piano di Dio del suo piano di redenzione infatti gli agiscono che sarà mai questo bambino certamente questo bambino sappiamo scelto da Dio per preparare la vita del Messia un ruolo importante in relazione alla venuta del Messia di Ofilo viene a conoscenza di quello che c'era dietro a questa nascita chi è questo bambino è colui che predicherà il battesimo di ravvidimento per il perdono dei peccati al capitolo 3 Luca parlerà di Giovanni versetto 3 egli andò per tutta la regione intorno al Giordano praticando un battesimo di ravvidimento per il perdono dei peccati chi era quest'uomo sappiamo chi era attraverso questi brani ora nello specifico è Dio era con lui nasce in modo miracoloso come sta scritto nel libro delle parole del profeta Esaia Luca dice voci di uno che grida nel deserto preparate la via del Signore raddrizzate i suoi sentieri ogni valle sarà colmata e ogni monte ogni cole sarà spianato e le vie tortuose saranno fatte diritte e quelle accidentate saranno appianate e ogni creatura vedrà la salvezza di Dio qui cita Esaia perché mostrate ofilo che Giovanni nasce in modo miracoloso secondo il piano di Dio e Giovanni corrisponde a quell'uomo di cui parla Esaia i credenti talvolta leggono questi versetti in modo superficiale ma qui c'è un grande incoraggiamento riguardo alla nostra fede non solo lo vedremo la prossima volta perché Zaccaria loda Dio e cosa mette al centro Zaccaria in questa sua lode Dio le sue promesse i suoi patti con Abramo con Davide il nuovo patto vedremo attraverso questo suo cantico che Zaccaria mette in relazione la nascita di Giovanni e di Gesù con quello che è il piano di redenzione quello che stava accadendo è che Dio stava adempiendo il suo piano salvifico fratelli un evento straordinario unico nella storia ciò che è stato promesso nell'antico testamento si sta avverando Giovanni introduce questo adempimento e di questo parlerà Zaccaria nel suo cantico ancora una volta qual è l'intento l'intento era per Teofilo di essere incoraggiato la sua fede in Cristo la sua fiducia in Dio e nel Messia era il risultato di questo adempimento storico del piano di redenzione che qui Luca manifesta attraverso la nascita di Giovanni vedremo la nascita di Gesù e poi le opere di Gesù che confermano la sua identità come Messia qui abbiamo un racconto storico che evidenza e quindi quello che è l'adempimento del piano salvifico introdotto attraverso la nascita di questo bambino Giovanni che precede il Messia come predetto nell'Antico Testamento abbiamo parlato di questo tante volte studiando anche il Vangelo secondo Marco ma è importante ribadire ciò ribadire qual è l'intento di questi libri affinché possiamo leggerli non come tipicamente accade in modo improprio interpretando la scrittura in modo errato ma leggendoli così come lo Spirito Santo aveva inteso per rafforzare la nostra fede per ricordarci che la nostra fede è certa in Cristo lui è Messia preceduto da Giovanni nato in modo miracoloso questo è quello che vediamo in questo brano in questi brani in tutto questo Vangelo e tutto questo ci incoraggia a perseverare la nostra fede a proclamare il Vangelo a predicare evangelizzare con fermezza con coraggio e con la consapevolezza che è il mondo che ha una fede cieca che si fonda sul nulla sono i pagani gli ati gli agnostici che hanno una fede che si fonda sul nulla la nostra fede si fonda su un piano che Dio ha adempiuto storicamente come predetto nell'Antico Testamento non c'è nulla da aggiungere fratelli c'è solo da gioire incoraggiati nel perseverare nella nostra fede e poter proclamare il Vangelo a coloro che invece pensano di poter vivere affidandosi e dalle proprie idee ad una propria filosofia anziché confessare la propria iniquità a riporre la fiducia in Cristo quale incoraggiamento per noi credenti fratelli quale incoraggiamento anche per i non credenti in mezzo a noi e considerare storicamente quello che è accaduto nel considerare che sì Gesù è Messia lui è il Salvatore è solo per l'opera di Cristo Gesù che è possibile la salvezza mediante la sua morte e la sua risurrezione questo è il Vangelo questa è la buona notizia questo è quello che Luca presenta in questo suo libro possiamo far tesoro di questo per noi credenti per la nostra fede per proclamare il Vangelo fedelmente